La coppia di artisti e fotografi, conosciuta come The Counterbalance, ha realizzato un video in timelapse per dare il benvenuto alla loro primogenita. I mesi scorrono veloci, la pancia cresce e i futuri genitori si impegnano per creare il miglior nido possibile alla bambina che arriverà. La cameretta pian piano prende forma, così come i quadri disegnati dalla futura mamma che andranno a decorare la parete. Ci attendono nuove avventure, scrive la mamma in uno dei quadri, firmando il suo personale dolcissimo benvenuta al mondo per la propria piccola.